un fatturato davvero di tutto rispetto signor notarpartolo e mi stupisce che con simili cifre sia venuto da noi soltanto ora è felice che sia reo contadino colui che trova pace in casa sua wolfgang goethe ad ogni modo i suoi documenti sono ritenuti idonei e il nostro ufficio legale ha dato il via libera quindi io direi che ora può prendere possesso del suo ufficio benvenuto tra noi la ringrazio molto signorina david grazie davvero grazie infinite grazie quindi lei che sarebbe re o contadino ma io sarei un contadino che ha deciso di vedere il mondo e di lasciare la pace il bello e il suo meraviglioso paese ah lo conosce ho studiato lì potevo restare ma anche io ho fatto la sua stessa scelta se ne pentita una donna nella mia posizione non può avere rimpianti beh d'ora in avanti se dovesse sentire troppa nostalgia per l'italia saprà chi rivolgersi con permesso